Rocco, tu che sei un giovane del paese, come lo ero io tanti anni fa, ma forse la mia gioventù è stata migliore della tua. Ecco, un giovane di Roccafortese, come passa la giornata? Qua così tiriamo, l'esoccupazione ormai mondiale, non c'è niente qua. Ecco, lavoro sicuramente non ce n'è, quindi cosa ti aspetti dal futuro? Onestamente lo vedo grigio in futuro a Roccaforte, quindi penso che andrò via prima dell'estate. Ecco, lo Stato secondo te, al di là della presenza dei carabinieri che va bene, però lo Stato inteso come colui il quale deve cercare di trovare soluzioni e sviluppo per il territorio, tu noti la presenza dello Stato qua a Roccaforte oppure no? Quale Stato? Qua non c'è niente, quale Stato? Devo andare a fare uno scorrimento veloce della strada che sboccava a Bova e allora il paese rinasceva, ma così non c'è niente. Quale Stato qua non c'è niente? Ma pure questa strada che c'è non è che sia in belle condizioni? E quale condizione? Ci vogliono 30, mezz'ora per arrivare a Melido. Ci sono buche enormi che trasi una macchina da intra, non c'è niente. Frane? Frane non ne parliamo proprio, st'inverno siamo restati bloccati qualche un mese quasi, come una frana, quanto si poteva passare? C'è niente, lavori non ne danno, le strade fanno schifo, come vede, sporche, non funziona niente. Ecco, quest'estate si è bruciata tutta la montagna di Roccaforte, a te è dispiaciuto sicuramente. Perché secondo te nessun giornale, nessuna televisione nazionale ha parlato? Veramente siamo abbandonati? Non è venuto mai nessuno qua, qua siamo abbandonati veramente, forse sei venuto tu a fare un servizio, sei venuto solo tu, ho visto qualche video così su Youtube, però non è che hanno fatto un articolo, o è venuto qualcuno a fare una illustrazione alla montagna per vedere niente, completamente. Quindi tu come giovane sei destinato a spostarti? E che fai qua? Qua un giorno passa così, ti sta spiegando la gioventù, non c'è niente qua, che fai qua? Non c'è niente, a parte che c'è una crisi mondiale, però sicuramente qualche posto ti darà qualcosa più di racconto e ci sarà sicuramente. Grazie.